La storia della ragazza simbolo della Repubblica Italiana. La foto simbolo per eccellenza della Repubblica Italiana è quella di una ragazza sorridente che sbuca dalla pagina del Corriere della Sera il giorno della proclamazione della Repubblica nel giugno 1946. Lo scatto di Federico Patellani è utilizzato ovunque ed il motivo risiede nel fatto che quel volto esprimeva tutta la gioia derivante dalla fine di un periodo oscuro e dalle prospettive di un futuro ricco di speranza. Il fatto che la ragazza sia rimasta a lungo anonima ha certamente contribuito ad accrescerne il fascino. Il mistero rimase risolto fino a quando il giornalista Mario Tedeschini Lalli lo svelò. La ragazza della foto è Anna Iberti, una giovane milanese di 24 anni, futura moglie di Franco Nasi, giornalista del giorno, scomparsa nel 1997. L'iconica foto viene pubblicata per la prima volta il 15 giugno 1946 sulla copertina del numero 22 del tempo. Anna in quel momento lavorava come impiegata amministrativa nello quotidiano socialista avanti e venne scelta da Patellani, non si sa perché, per realizzare una serie di scatti di prova tra cui la foto icona che celebrava la vittoria della Repubblica nel referendum.